buongiorno mi dica non voleva conoscere i nostri orari per fare in modo libero si allora ne dico subito vuole anche interessarsi dei corsi allora per quanto congelle in modo libero in modo libero e si praticamente adesso gli orari sono questi dalle 10 continuato fino alle 20 il sabato dalle 10 però fino alle 19 e la domenica dalle 10 a mezza giorno e mezza si ovvio siamo praticamente dentro che osserviamo in bocchette si io adesso come vedete sono anche truccata perché ho finito il mio turno da due ore che sono qua solo dare una mano alla ricenza per darvi appunto le informazioni te sì te allora che non lo sono interessate sì quindi ha bisogno di unire perchè sta facendo una dieta e quindi ovviamente è molto importante e nello stesso tempo ovvio ovvio che quando si dimagrisci ti devi tonificare rassalare a genere troppo va bene e quando hai un problema sport completo si però è un problema che leggera il punto che la sua esigenza è in più portata per un problema addominale che è dimagrito stesso io le consiglio le cose che le gambe addominale ultime si termine alta e non avvicinate un metro di trenta quindi te sì c'è ovviamente l'istruttore che vi fa fare tutti gli esercizi è un tipo è un corso un tipo di esercizio fisico fatto oltretutto in acqua è molto è molto energico sì e per questo per questi corsi non per voi ripetere se le vanno dare ben di suoi per questo corso come per altri noi richiediamo un identificato di sanaraposta costituzione da parte del medico inoltre viene eseguito all'interno della piscina dal nostro medico e ci sono tassi perché a volte facendo male tutto tranquillo diciamo e poi invece sotto sforzo non può avere dei problemi ecco perché comunque facciamo fare questo questo esame qua e non non deve pagare perché rientra nella quota di secrezione sì i simili costi di orari prima di adesso io ho un po' un po' certo certo ti dico anche 13 costi corso allora io scrivo qua allora cosa 20 euro di scrittione 7 euro io lo scrivo è 39 euro sì è 39 euro sì un po' può andare avanti perché non bisogna sì sì certamente noi non abbiamo praticamente per fare questo questo corso si usano determinate come possiamo tutto per esempio un pallone che verrà applicato e posizionato per esempio quando dobbiamo trafruzzare le autotture contemporaneamente occhio e le posizionate all'interno delle gambe facendo una certa pressione con dei movimenti anche delle mani in effetti il brus è una cosa che richiede un po' le strutture tanto semplina quindi costruzione no in questo caso anche perché la parte dove avverrò a fare questo ca che non deve tenermi la come piano no perché non lo sentite troppo compresso e mi avvicinano dove si fanno solo questi colori qua ovviamente si vede che la brucia le doccia tutto per quanto concerne perché perché con questa bambina andate sotto quanto intergetti così migliorare allora noi vogliamo migliorare le faccio votare il pomeriggio come sempre vedo alle 16.30 il tuo te ho oppure il macchino alle 10 alle 11.30 lei cosa come si trova meglio per i piacciono questi corsi io lo devo inserire nel momento che le inserisco un mattino il pomeriggio non non puoi cambiare idea e fare l'altro corso perché togliamo quante persone per un dell tipo dico facendo il pomeriggio perfetto allora mi serve questo documento ecco i piccoli e facciamo la distribuzione qui c'è il suo nome si si adesso vi ricordo la carta di identità solo perchè non è scritto molto bene la carta di identità non si capisce ok corso perfetto 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 si perfetto quindi 36 30 il pagamento anche con perfetto il pagamento è appunto si si anche con il pagamento si si quindi sono 20 euro più 39 euro si 20 euro sono più strani scusi 20 euro sono a scherzare si chido non ho tanto serena perchè facciamo tanto serena anche volete il consumante anche per fare noto libero anche il costo anche allora l'ingresso 5 euro sempre lo fa ve ne farò diciamo un'altra volta la settimana considerando quanto quanti giorni prende l'altra cosa perchè non mi sa ho un inizio quindi inizialmente 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 poi passa al corso intanto fanno un auto libero e le due volte la settimana al massimo una volta un molto libero perchè insomma impediamo molto fisicamente anche risico di problemi non si esagerà mai troppo allora dicevo pronto 5 euro sennò mi fa 10 in parte mi paga 49 euro così scontato e faccio anche quello cosa stanno comando? ok si aspettiamo come al solito la vicenda si allora siccome vi faccio colazione al mattino non vi mangio totalmente prima di venire vicino a vicino perchè a parte se siete prendo una concessione non si mangia mai prima di fare il sport ti mando da stamattina quello sia una bella concessione ma è buono il latte anche al mattino che sono grassi e ti riscoltiamo che la manovillata come fa sempre quando si avvicina nel momento di venire vicino assolutamente normale e si come nel gestione normale quando andiamo a chiamare andiamo in acqua lontana dopo la gestione a metodicare di soccorso perchè sennò questi rischi sono cose pronte si si allora allora vediamo tutto questo è un tessilino prego hai capito tutto? ah due bambini si vuoi portare anche ora ma per quali non c'è problema noi abbiamo una pescetta proprio fatta per i bambini e c'è anche lì un prestitore fino a 7 anni proprio l'acqua è proprio fatta per loro le piccole e le camiglie si potrebbero lasciarli agli istruttori quando vieni a fare il corso così non le devi lasciare magari a parenti no no non pagare niente perché quanto hanno? 4 anni non è graduito l'ingresso assolutamente buono da servizio che avremo noi va bene? allora l'aspettano poi anch'io in piscina arrivederci arrivederci